Massafra è un comune di 41.628 abitanti della provincia di Taranto e posa a un'altitudine di 110 metri sul livello del mare e copre una superficie di 190 km2. Massafra è stata anche soprannominata Tebaide d'Italia. Il territorio massafrese va dalla Murgia Tarantina fino al Mar Ionio e presenta una grande varietà di paesaggi. È solcato da una serie di gravine e di lame, naturale continuazione delle gravine con pareti più dolci, di origine carsica. L'abitato si è sviluppato intorno a due di queste, la gravina di San Marco e quella della Madonna della Scala. Il terreno è costituito da una forte coltre di ricoprimenti sabbio-glieiosi e argillosi tipica della conformazione geologica che va da Taranto in direzione del fiume Bradano. Nell'entroterra compaiono i sabbioni pliocenici sovrapposti al calcare compatto cretaceo da cui si estraggono i tufi. Il territorio massafrese ha conservato tracce di frequentazione a partire dal Neolitico, attestate dalle selci lavorate rinvenute nella gravina della Madonna della Scala. Il nome di Massafra deriva da Massa Afra, il che fa ipotizzare che l'abitato sorse in seguito all'arrivo di un gruppo di profughi cacciato dall'Africa settentrionale per l'arrivo dei vandali. Giunti in Puglia avrebbero chiesto aiuto al vescovo di Taranto che avrebbe affidato loro una massa. Un potere di grande estensione situato tra le attuali gravine della Madonna della Scala e di San Marco, dove i profughi di provenienza africana scavarono le loro abitazioni nella roccia. Sono intorno al 1300 Massafra venne unita al Principato di Taranto in possesso del ramo d'Urazzo degli Angiò e vi rimase fino al 1463. Sotto questa dominazione la città acquisì lo status di città libero o demagnale e fu prescelta come sede dell'allevamento delle cavalle regge. Dopo la rivoluzione napoletana del 1799 anche a Massafra terminò il feudalesimo. Nel 1923 entrò a far parte della neonata provincia dello Ionio, derivata dall'antica provincia della terra d'Otranto. Nel 1953 si svolse la prima edizione del Carnevale Massafrese, che tutt'oggi rappresenta uno degli eventi più importanti e caratteristici della provincia ionica. Nei primi anni 60 l'industria siderurgica di Taranto, di Tarzider, assorbì molti lavoratori massafresi. A Massafra invece aprì una fabbrica per la produzione di birra di proprietà dell'Adrer. Lungo le gravine sono presenti vari insediamenti rupestri di origine sia preistorica sia alto medievale, sviluppatisi in un periodo di instabilità e decadenza. Dal V al X secolo, con incursioni di goti, longobardi e saraceni. Esistono anche delle vere e proprie chiese, cappelle e monasteri di monaci basiliani. Inoltre numerose sono le strutture storiche che fanno da cornici al comune. Il castello, la torre dell'orologio, palazzo dei notari Stefani, il municipio e numerose chiese di grande bellezza. Senza dimenticare gli straordinari luoghi di interesse naturalistico che fanno di Massafra una cittadina completa. Secondo la tradizione popolare, Massafra sarebbe terra di masciari, cioè di coloro che praticano la magia. A questa tradizione è legata la leggenda del mago Greguro, di cui viene indicata l'abitazione rupestre nella gravina della Madonna della Scala. Secondo la leggenda, Greguro aveva una figlia, Margherita o Margheritella, desiderata da tutti gli uomini e invidiata dalle donne. Condannata al rogo, sarebbe stata salvata all'ultimo momento dal legumino Anselmo. La tradizione della presenza dei masciari, diffusa in particolare nel XIX secolo, si tramanda in numerosi toponimi. Gravina della Zingara, Gravina del Volo, Farmacia del Mago Greguro, Noce dei Maghi, Corno della Strega, Grotta Cabirica, Grotta del Diavolo, Grotta della Masciaredda, Sacco della Morte, Presso la Punta del Monte Moro, Ponte degli Zingari, Rione degli Ostinati. Legata a questa credenza popolare magica, è la consuetudine di raccogliere erbe medicamentose nelle gravine, dove fioriscono spontanee oltre 600 varietà di piante officinali. Le ricorrenze religiose principali, che vengono ricordate con particolare solennità, sono quelle di San Leopoldo, di Sant'Antonio da Padova, della Madonna del Carmine, di San Gaetano di Tiene, di Santa Lucia e di Gesù Bambino. A queste si aggiungono le ricorrenze natalizie, con i presepi allestiti nelle grotte della Gravina, e pasquali con la processione dei misteri. Altre consuetudini sono la benedizione degli animali presso la chiesa di Sant'Antonio Abate, l'accensione di falò simboleggianti il calore domestico per la festa di San Giuseppe, e le barchette della navigazione della speranza, appese nei vicoli per il Ferragosto. Diversi personaggi illustri nati a Massafra, Niccolò Andri è scienziato, padre Luigi Abbatangelo, umanista, scrittore e archeologo, Giuseppe Escarano, colonnello dell'esercito italiano caduto in guerra, Giovanni Lo Savio, musicista, Gian Bernardo Capreoli, evangelista da Massafra, eroe della battaglia di Lepanto del 1571.